Salve a tutti, mi conoscete? Sicuramente sì. Allora, mi presento. Eccomi qua. Allora, 32 dicembre fai ascoltare al tuo cane il discorso del precedente, il quale si addormenta e non ha paura dei botti. Mi raccomando, questo è il consiglio. Ma il mio scherzetto è questo. Tutta un'altra cosa, per augurarvi un buon fine anno, vi faccio ascoltare questo signore. Anzi, vediamo la fine evidenza. Eccolo qua. Questo è il signore dei nostri figli. Eccolo qua. Anzi, vediamo anche qua. Sempre lui, eh? Eccolo qua. Questa è la mia nipote che ho fatto. Bene, qua concludo. Questa è la mia nipote. Chiudo. Saluto a tutti. Ciao. Si passa il tempo. Il tempo passa senza che io lo spiega comunque. Però, da volte si passa il tempo. Chiudo. Ciao a tutti. E buon termine. Nel senso che si finisse da uno finalmente. Speriamo un anno migliore. Devo cambiare le copertine di questo. No, sì. E riposiziono in quanto che questo non mi sembra che sia giusto o non mi piace. Ok. Chiudo e poi lo cambierò. Bene. Saluto a tutti. Ehi, un sorriso. Allora. Sono a tutti. Grazie.